Ciao, io sono Maria e questa è la Cucina in 4K con Maria. Ciao a tutti! Oggi prepareremo un dolce della tradizione, la classica torta della nonna, la crostata di mele. Uno dei dolci più semplici e profumati, infatti le mele aromatizzate con le tante spezie rilasciano una fragranza che evoca proprio questo periodo, l'autunno, stagione che io amo particolarmente. Inoltre una torta talmente buona che è amata da grandi e piccini. Gli ingredienti che useremo per questa crostata sono, per la frolla, 300 g di farina doppio zero, 60 g di zucchero, 150 g di burro a temperatura ambiente, un uovo intero più un tuorlo, 2 cucchiaini di lievito per dolci. Per il ripieno, 4 mele, 90 g di zucchero semolato, 2 cucchiaini di cannella, un cucchiaino di noce moscata, un cucchiaino di chiodi di garofano ed infine 20 g di amido di mais. Iniziamo! E per prima cosa prepariamo la frolla, che poi dovrà riposare per almeno mezz'ora in frigorifero. Perciò in una ciotola abbastanza capiente, versiamo la farina, lo zucchero, il lievito ed infine il burro. E lavoriamo con delle fruste elettriche a spirale. Quando l'impasto avrà raggiunto una consistenza granulosa, aggiungiamo le uova e continuiamo ad impastare. Ed infine ultimiamo con le mani, fino a quando non otterremo un panetto liscio ed omogeneo. Avvolgiamo la pasta frolla in un foglio di pellicola trasparente e facciamola riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Intanto che la frolla riposa, possiamo dedicarci a condimento delle mele. E nella tazza dello zucchero, uniamo l'amido, la cannella, la noce moscata e chiodi di garofano. E diamo una mescolata fino a quando tutte le polveri non si saranno mischiate. Dopodiché le mettiamo da parte fino al momento del loro utilizzo. Dopo aver lavate e sbucciato le mele, le dividiamo a metà ed eliminiamo il torsolo. ed aiutandoci con un coltello affilato, le tagliamo a fettine sottili. In questo modo, vedete? A questo punto le trasferiamo in un insalatiere abbastanza capiente e le condiamo con lo zucchero aromatizzato. E mischiamo bene fino a quando tutti gli ingredienti non saranno ben amalgamati. Un suggerimento che vi voglio dare è che se a voi una di queste spezie non dovesse piacere, potete benissimo non metterla. La torta verrà buona ugualmente. Invece l'aggiunta dell'amido è indispensabile. In quanto le mele utilizzate crude in cottura rilasceranno tanti succhi, e l'amido servirà ad addensare i liquidi del frutto, creando così una cremina da leccarsi i baffi. Passati 30 minuti riprendiamo la frolla dal frigo e dividiamola in due parti. Ovviamente questa è la mia ricetta. Se qualcuno di voi la prepara in modo differente, può farmelo sapere nei commenti. È sempre piacere imparare cose nuove. Infariniamo il piano da lavoro e il mattarello. Estendiamo i due terzi di pasta. Grazie. 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 Poi trasferiamo la sfoglia in una torchiera dal diametro di 26 cm rivestita di carta forno. Accomodiamo e sistemiamo i bordi. Se avete domande, dubbi o qualunque altra cosa, scrivete un commento, sarò felice di rispondervi. E come sempre, per non perdervi le prossime ricette, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mettete un mi piace al video. Vi ringrazio di cuore in anticipo. Versiamo le mele e livelliamoli con la spatola. Ora ci dedichiamo alle lusanghe, perciò stendiamo la frolla che abbiamo tenuto da parte in un rettangolo. e poi con la rotella dentata rigaviamo delle strisce più o meno regolari. E successivamente le accomodiamo sulla crostata, dando la classica forma raggera. Infine ultimiamo ridando una sistemata ai bordi. Dopodiché, inforniamo a forno preriscaldato ventilato a 180 gradi per circa 45 minuti o comunque fino a quando la sua superficie non risulterà dorata e ben cotta. Quando la crostata è pronta, la trasferiamo sopra un piatto da portata, la spolverizziamo con un po' di zucchero a velo e per renderla ancora più golosa la possiamo servire accompagnandola con una pallina di gelato, alla panna o alla vaniglia. Fatemi sapere se questo dolce vi è piaciuto e arrivati a questo punto, come al solito, se la ricetta ti è piaciuta, un bel like a modo giusto per farmelo sapere assieme ad un commento. Per altre ricette iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao da Maria!